il mio campo di ricerca dopo l'università facoltà di lettere campo demo etno antropologico dopo parecchi anni ripresi in mano circa vent'anni fa la storia delle religioni in chiave antropologica anche cercando di svelare cosa si nascondeva dietro l'antico il nuovo testamento lo studio che abbiamo fatto uno stato uno studio non a caso tu hai detto ricercatore non professore perché non è che insegno nelle scuole ricercatore che cosa fa si occupa di comparare testi documentali ricerche archeologica etimologia e cercare di ricostruire la storia e quindi abbiamo fatto scoperte di livello internazionale sia per quanto riguarda l'antico che il nuovo testamento soprattutto per quanto riguarda il nuovo testamento stanno cercando di fare una congiura del silenzio sulle nostre ultime scoperte nonostante io abbia detto a chiunque ragazzi io sono disposto a venire a confronto con professori accademici chi volete voi esegeti del vaticano che inizialmente hanno accettato poi quando hanno visto le prove documentali che portiamo si sono tirati indietro questo è venuto davanti alla giornalista anna turletti che si trovava in egitto professore della somma pontificia università lateranez col dottorato in cumram parlo del libro per esempio l'ultimo libro oltre il velo di iside le scoperte sono qualcosa di devastante perché perché abbiamo svelato in maria madre di gesù la terza moglie del ero del grande maria boeto e quindi un gesù figlio del ero del grande che non cercava per ucciderlo ma perché voleva suo figlio indietro e maria soprattutto figlia della regina cleopatra d'egitto e del suo sommo sacerdote simone boeto tant'è che boeto insieme a marco antonio ea cleopatra li troviamo insieme a tarso nel 41 ma quella del padre di simone questo sacerdote che stava dall'istante d'egitto sotto che lo vale tutto ci porta in egitto come mai ecco alessandro de angelis onoratissimi davvero ancora nei nostri canali ciao alessandro come stai ciao luca tutto bene oggi dobbiamo andare sul proseguo del della prima puntata dove abbiamo parlato di apocalisse rivelazione sì e abbiamo visto che in realtà quel libro faceva riferimento a un evento catastrofico avvenuto nel 3123 23 avanti cristo però la caduta della cometa bark prima di iniziare questa puntata e dove continueremo quel percorso sulla mitologia sumera e babilone sumero e babilonese perché quei personaggi che troveremo poi arrivare fino alla bibbia cioè nel tardo cristianesimo si parlerà di lucifero ma è in genesi si parla del signore chi era quel signore il peccato originale eccetera eccetera sveleremo tutto attraverso un lavoro di comparazione che abbiamo fatto eh tra l'antico testamento testi sumeri babilonesi e babilonesi e riparti archeologici che abbiamo trovato prima però di affrontare questo eh volevo eh annunciare ai nostri spettatori che è venuto un evento eh evocato questa è questa sarebbe la bomba in genere si dice se maometto non va dalla montagna e se la montagna se se la montagna non va da maometto maometto va dalla montagna tutti quanti sanno che io ho richiesto tantissime volte confronto con eh docenti e sacerdoti del Vaticano per eh portargli davanti le nostre scoperte storiche eh su una Maria madre di Gesù che era la moglie del eredo del grande su un Gesù ultimo figlio del eredo del grande suo eredo del grande che era il nonno di Paolo di Tarso che creò il cristianesimo su un Gesù che era zio addirittura di Paolo di Tarso ebbene e martedì cinque qui a Tivoli alla chiesa del Gesù c'è stato un convegno con il dove c'era il professor della pontificia università urbiniana del Vaticano nonché sacerdote che è venuto a fare un convegno pubblico e quindi c'era la sala piena di eh persone su Paolo di Tarso alla fine della relazione del devo dire o poi una persona squisita tra l'altro del professor Basta eh ho parlato delle scoperte storiche documentandole e il professore annuiva quando gli mostravo le documentazioni di Paolo di Tarso attenzione io ho usato Vangeli Canonici Vangeli Apocrifi e Tito Flavio Giuseppe lo storiografo Tito Flavio Giuseppe lo conoscono bene alla chiesa e lo studiano perché perché proprio dal Testimonium Flavianum di Tito Flavio Giuseppe dove ci parla di Gesù e del fatto che morì risorse dopo tre giorni dicono i cristiani e di Giacomo Fratello di Gesù che la chiesa trae prove per provare la storicità di Gesù al di fuori dei Vangeli e degli e degli testi canonici. Dopo che ho portato tutti i nostri studi e la comparazione di quello che ho detto e soprattutto anche della cospirazione che Maria terza moglie del Rero del Grande fece contro suo marito per motivo per cui poi dovettero fuggire in Egitto il professore annuiva conosceva bene tutti i testi che gli leggevo anche perché parliamo di lettere ai Romani scritte da Paolo di Tarso proprio no? O altri passi di Tito Flavio Giuseppe e alla fine del mio intervento dove ho documentato con prove alla mano quello che avevo detto lui mi ha risposto pubblicamente davanti a tutti io sono un biblista non dovresti fare un confronto con uno storico non so argomentare per confutare le tue scoperte storiche. È un po' come per fare un parallelo Einstein presentasse la sua relazione sulla formula della relatività, un matematico si alzasse, una persona si alzasse e gli confutasse la formula della relatività e Einstein gli risponderebbe pubblicamente dicendogli che lei dovrebbe andare a confronto con un matematico. È lo stesso parallelo perché? Perché ho usato, ripeto ancora una volta, Vangeli canonici, Vangeli apocrifi e lo storiografo Tito Flavio Giuseppe. Sono cose che un docente universitario del Vaticano conosce benissimo, tant'è che lui annuiva quando portavo avanti tutte queste prove. È stato fatto un video da parte di alcune persone sul mio intervento, ce lo devono mandare, per cui gentilmente se riusciamo a vedere questo video ti chiederei la cortesia, magari nel prossimo nostro intervento, di poter ascoltare il mio intervento davanti al professore sacerdote del Vaticano e di poi spiegare bene tutte le prove che abbiamo portato nei nostri libri perché è qualcosa di epocale. A questo punto o il Vaticano manda altri esegeti a confutarci oppure qui il cristianesimo dopo duemila anni. Non so che cosa ne rimane in piedi perché parlare di un gesultimo figlio del re Ero del Grande che era un pluriomicida che uccise tre figli, mogli, suoceri, cognati, eccetera eccetera, di una Maria, moglie di Erode che cercò di avvelenare suo marito, di un Paolo di Tarso che era nipote di Ero del Grande e Gesù era lo zio addirittura. Non solo, ma poi è stato molto interessante perché lui ci ha parlato addirittura di un Gesù taumaturgo, un medico. E noi nei nostri libri, questo l'abbiamo detto, che era un terapeuta di Alessandria d'Egitto che conosceva molto bene la medicina egizia e che quelli che venivano chiamati in miracoli molte volte erano legati proprio a conoscenze da questa antica medicina. Quindi è stato molto molto interessante, devo dire è stata una persona squisita, il professore, però nel momento in cui mi viene detto devi confrontarti con uno storico. Ragazzi uno storico non si occupa di storia del cristianesimo primitivo, sono loro che se ne occupano. Per cui l'evento è successo. In questo momento, siccome era una persona che vestiva ruolo sia di sacerdote sia di docente del Vaticano, il cristianesimo, signori, possiamo dire che è crollato a meno che non vengano fino a quando non verranno a confutare le nostre scoperte storiche. Ricordo che 2 miliardi e 300 milioni di persone sono credenti di questa dottrina, il cristianesimo, completamente diverso dal gesuanesimo che era il logos, il verbo che portava avanti Gesù e non una dottrina delle per il potere che creò Paolo di Tarso su una famiglia di erodiani su cui è stata costruita questa religione di potere. Quindi la prossima puntata ti chiederei gentilmente di poter affrontare questa tematica e magari se riusciremo ad averla vi manderemo, sono 12 minuti dell'intervento che ho fatto e della risposta del professore sacerdote della Pontificia Università. Volentieri tu me la mandi, me la mandi, ma guarda Alessandro, possiamo inserirla anche in questa intervista se vuoi? Se non può aspettare la prossima? No, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo ancora. No, no, ma nel senso tra qualche giorno, se riusciamo a avere Alessio ti manderai il link e quindi potrai legare il link e poi spiegheremo ancora meglio nel dettaglio nella prossima puntata, la faremo vedere e parleremo di tutte le prove che abbiamo tirato fuori sul vero Gesù storico. Un Gesù che morì addirittura nel 68 durante la prima guerra giudaica, ucciso dai Dumei e Zeloti e che fu ucciso per aver cercato di difendere il proprio popolo dalle angherie e dai supprusi degli Zeloti. Un Gesù che portò avanti queste aggregazioni di terapeuti dove all'interno di queste comunità nessuno poteva possedere più di altri, tutto veniva distribuito in maniera equanime tra gli abitanti di questa comunità, tant'è che Pietro, e questa attenzione perché lo ha messo lo stesso, lo ha detto lo stesso Bergoglio, Papa Bergoglio, uccise due anziani coniugi, Anania e Zaffira perché entrarono in queste comunità di terapeuti, vendettero un terreno e trattennero una piccola parte dei soldi della vendita di quel terreno per loro invece di donarlo per intero alla comunità. E per questo furono uccisi questi due anziani vecchietti da Pietro. Questo ne ha parlato addirittura Papa Bergoglio dicendo sì, effettivamente Pietro ha fatto questo, si è reso complice di questo duplice omicidio. Ma oggi noi dobbiamo continuare la nostra storia parlando dell'Antico Testamento. Quando pochi non sappiamo quanto tempo prima della caduta della cometa ci fu uno scontro tra due fazioni appartenenti alla stessa famiglia di questi Kurgan. Li conosciamo con i nomi sumeri, le due fazioni erano una di due fratelli, uno si chiamava Enki, En vuol dire Signore, Chi, Terra, un altro era Enlil, Signore, Lil, Vento, Signore del Vento. Ne abbiamo accennato la prossima volta. Il vento fu uno delle caratteristiche che prima delle onde degli tsunami si parla del vento malefico che arrivò dal sud, uno degli effetti della caduta di quella cometa che alzò uno tsunami alto oltre 200 metri e questi personaggi assorbiranno, verranno sincretizzate in questi personaggi le caratteristiche degli effetti di questa cometa. Quindi il fuoco, il vento e l'acqua. Ea diventerà il dio degli inferi, delle acque sotterranee. Perché? Perché si mischiarono le acque salate del mare con quelle del tigri e delle eufrate. Le acque erano diventate non più potabili, quindi non potevano più bevere e quando bevevano si ammalavano. E dicevo, prima di questo evento ci fu una battaglia tra questi due fratelli per il potere. Raccontiamo quindi le origini di questa battaglia che avvenne prima della caduta di questa cometa. Tant'è che nell'epopea di Gilgamesh e nell'Athrasis si parla proprio di questo mito del diluvio universale dove Enki parlerà attraverso un muro di canne a Ziusudra alias il nuè della Bibbia. Ziusudra era il decimo re della lista reale sumerica. Il primo re della lista reale sumerica era Alulim, ovvero l'Adamo della Bibbia. Adamo è il primo uomo, Alulim. A primo, Lu, uomo, Lim, venuto a venire. Abbiamo fatto un parallelo tra la discendenza da Adamo fino a Noè e tra questi primi dieci re del protodinastico uno delle tavole sumere ritrovando in questi personaggi caratteristiche assimiliabili tra di loro. Ad esempio, Enoch era M. Duranchi, settimo re della lista reale sumerica. Dicevo che Enki, spieghiamo antropologicamente quello che succede, se avviene un evento così catastrofico che porta quasi sull'orlo dell'estinzione dell'intera umanità e dove muore il 70-80% della popolazione umana, l'uomo che cosa cerca di fare per far sì che non si ripeta un evento così in fausto? Tutto ciò che non è controllabile da parte dell'uomo deve cercare di controllarlo. A questo punto, che cosa hanno fatto? Loro daranno la colpa di quello che è avvenuto, di questa catastrofica distruzione da parte di questa cometa, ad uno di questi personaggi, ovvero questo dio Elil, che manderà questa catastrofe per punire i suoi parenti che avevano usato di contrastarli. E su questo Elil, altri non è che il dio che ritroviamo in Genesi. Così che attraverso poi preghiere e offerte, pregrando questi uomini che sono stati divinizzati e deificati, questi uomini li rendiamo così divini e dei, da poter controllare questi eventi catastrofici e quindi attraverso preghiere e offerte l'uomo pensò che potessero controllare questi effetti affinché non si ripetessero più. Questa è la funzione poi delle religioni, sono nate per questo scopo. E dicevo, Enchi allora, quando venne a sapere che suo fratello Elil voleva mandare questo diluvio universale, avvisò attraverso un muro di canne, Ziusu, Traut, Napisti, ma secondo che usiamo la Trasis o il Gimesh, per dirgli di costruire un'arca, un'imbarcazione per mettere in salvo la sua specie, la sua famiglia e gli animali e c'è un'analogia pressoché totale tra i racconti della Trasis e il Gilgamesh e i racconti del diluvio universale che coinvolse Noè che si salvò a quale verso questa arca, erano barche rettangolari che questi sumeri poi usavano per i loro trasporti marittimi per scambiarsi quello che producevano e quando arrivò l'onda di tsunami e ovviamente passando attraverso questi due larghissimi fiumi, il Tigre e l'Eufrate, continuò ad andare in avanti per centinaia di chilometri fino a trasportare la famosa arca, si dice, sul monte Ararat. Andiamo un attimo su questi dei. Questa genealogia che vedete è la mitologia babilonese, quella sotto invece è la mitologia. Alessandro, vuoi che mi ingrandisca un po' la telecamera? Ingrandisca un po' la tua parte così che si possa leggere meglio. Si vuoi inquadrare sopra me possono vedere meglio. Ok, perfetto. Per la mitologia babilonese abbiamo Apsu e Tiamat che avranno Ansar e Kisar, da Ansar e Kisar abbiamo Lakmu e Lakamu, da questi due avremo Nammu che era una concubina di Anu e Antu che era la sorella di Anu. Poi da Nammu e da Anu abbiamo Enki e Oea, da Anu e Antu abbiamo Elil. Da Enki abbiamo Marduk, poi sveleremo tutta la storia del combattimento che ci fu da questi personaggi, che altro non era che Adamo, lo ritroviamo nella lista sumera come A, primo, lu, uomo, lim, venuto ed è l'Adamo della Bibbia. Elil diventerà il signore della Bibbia, padre di tre figli che diventeranno i famosi arcangeli. Uno era Nanna, Nanna era signore a Ur. Svegliamo subito chi era uno di questi arcangeli. El vuol dire signore, Ur-El, Uriel, uno dei quattro arcangeli, anzi non era che Nanna, figlio di Elil. Nel libro Lucifero, il re Sumero, tradito dal Signore, svegliamo tutti e quattro gli arcangeli, vi riportiamo tutte le prove di quello che è successo, il motivo per cui quel Lucifero fu costruito poi sulla figura di Adamo. Adesso racconteremo quello che è successo, capirete tutti i motivi. Cosa è successo? Andiamo alle origini di questa guerra tra queste due fazioni per il potere di queste due fazioni di due fratelli, Elil ed Enchi, figli di Anu. Enchi era il primo genito di Anu, Elil il secondo genito avuto da Antu, che era la sorella di Anu. Bene, che cosa fece Anu? Fece una legge per cui la sua eredità sarebbe dovuta andare non al primo genito, ma al primo figlio che avrebbe avuto a sua volta un figlio maschio dall'unione non con una concubina, ma con una sorella. Perché questa legge? Perché attraverso, ce la portiamo ancora dietro, attraverso tante famiglie reali, no? O nobili. Perché era un modo per non disperdere il patrimonio e far sì che tutto rimanesse in famiglia e si accumulasse sempre di più. Quello di fare matrimoni tra fratelli e sorelle o al massimo tra cugini. Queste cose ce le ritrogrammo addirittura tra i faraoni egizi e tra le famiglie reali che sono arrivate fino ai nostri tempi, guarda gli Asburgo, che hanno la scucchia deformata. Perché? Perché poi porta a problemi a livello genetico di malformazioni, fare matrimoni con i propri familiari. Cosa successe? Quando praticamente Anu allora voleva dare la successione a Elide che era il secondo genico, Enki, tutto questo, le prove documentali di quello che sto dicendo, noi facciamo la ricostruzione altrimenti non se ne esce, le trovate ovviamente nei libri. Enki uccise suo padre Anu. Anu era sposato con la sua concubina Namu che altri non era poiché Tiamat. Ce la ritroviamo come Tiamat. A questo punto Tiamat o Namu che cosa fece? Anu sarebbe poi Apsu infatti verrà ucciso Apsu nella mitologia babilonese. Che cosa successe? Che Tiamat si mise d'accordo con Kingu non sappiamo se era e lo sposò. La regalità veniva data attraverso delle tavole che venivano chiamate tavole dei destini e secondo questi personaggi avevano troppo proprietà. Una era quella di far vincere le guerre, un'altra era quella di poter divinizzare passato, presente e futuro ma quella più importante quelle tavole dei destini sono le stesse tavole che poi ritroviamo nelle tavole famose di Mosè era quella di trasmettere la regalità. Era come una corona corona Kingu QN QN vuol dire razza, popolo, corona, Iquin, Cain, QN siamo sempre alla stessa radice. A questo punto dicevo Tiamat quando Enki o Ea ha uccise suo padre e Anu si mise d'accordo con Kingu e formò un esercito. Enki aveva paura che potessero uccidere e quindi convocò un'assemblea che viene cambiata assemblea degli dei ovvero convocò i suoi parenti che furono deificati per trovare una soluzione e potersi salvare. Bene, l'unico che si si fece avanti fu Marduk ovvero Alulim ovvero l'Adamo della Bibbia e disse andrò io a contrastare l'esercito di Tiamat e di Kingu ma nel caso io vincessi voglio la regalità e Marduk o Alulim o Adamo riuscì a sconfiggere l'esercito di Kingu e di Tiamat uccise Kingu impastò ci dice la mitologia babilonese il suo sangue con l'arcilla e creò l'uomo l'Adam a questo punto per quanto aveva vinto la battaglia l'esercito di Adamo che diventerà poi nel tardo cristianesimo Lucifero era comunque uscito ridimensionato da questo scontro attenzione perché Lucifero portatore di luce è sempre stato associato al pianeta Venere in realtà la radiosa stella del mattino e pensate che Gesù addirittura dice io sono la radiosa stella del mattino ma per annunciare la sua discendenza da Adamo Venere era associata alla dea Inanna che era nipote di Elil figlio di Inanna ma i pianeti che si vedevano al mattino erano due oltre a Venere c'era anche Giove e qui c'è stato il grosso errore da parte di tutti quanti e Giove sapete che era associato a Marduk ovvero Adamo o a Lulim è sempre lo stesso personaggio che cambia nome a questo punto quindi Adamo diventò primo re del proto di Nassico 1 e lui governava sulla città di Eredo a Lulim e Elil approfittò della situazione però per fare cosa rubò le tavole prese lui le tavole riuscì a avere le tavole dei destini Elil abbiamo visto nella puntata precedente che era governatore nell'antica città dell'Elam odierno Iraq a Susa Luca per favore se inquadriamo ti inquadro anche a te andiamo molto più discorsivi adesso ti faccio entrare in disquisizione allora Luca la famosa storiella di Abele Caino e del Signore andiamo ci viene detto che Caino uccise suo fratello Abele uno era un agricoltore l'altro era allevatore quando Caino andò davanti al Signore quel Signore era Elil del Signore siccome governava nell'antica città di Susa andarono a portargli i doni i tributi le tasse per quel periodo si pagavano sotto forma di parte del frutto dell'allevamento o dell'agricoltura come tassazione e che cosa fece Elil il Signore anzi il Signore nella Bibbia chiese abbiamo fatto preso anche il racconto da Tito Flavio Giuseppe chiese a Caino quando gli portò i doni ma dove è tuo fratello Abele e Caino gli rispose non lo so sono parecchi giorni che non lo vedo ma come è tuo fratello non sai che fine abbia fatto e Caino gli rispose io non lo vedo effettivamente da parecchi giorni non so che fine abbia fatto non sono il custode di mio fratello gli rispose in maniera anche stizzita e il Signore gli rispose ma come lì su quel terreno c'è il sangue di Abele di tuo fratello quindi come poteva il Signore che altri non era Elil sapere dove era morto che Abele era morto e che il suo sangue era lì in quel preciso luogo non poteva saperlo a meno che non fosse stato lui ad ucciderlo quando gli portò i tributi sotto forma di tasse dopodiché abbiamo il famoso marchio di Caino perché tentò di uccidere anche Caino ma probabilmente Caino riuscì a salvarsi molto probabilmente raccontiamo tutta la storia dei dettagli nel nostro libro una mazzata in testa ma riuscì a sopravvivere e fuggì e io ho pensato ma se Adamo l'ho ritrovato come Aludim primo re della lista reale sumerica un'analogia pressoché identica tra i due personaggi ma non è che anche di Caino abbiamo tracce nei testi sumerio nei reperti ecologici bene ho trovato nel British Museum e la tavoletta dove si parla di Caino di Caino che poi ci dice lo storiografo Tito Flavio Giuseppe costruì una città la fortificò con alte mura perimetrali intorno per la prima volta e due alte torri di guardia perché perché probabilmente Caino riuscì a salvarsi da Elil dal Signore dopodiché riuscì a fuggire e creò questa città fortificata attenzione perché il figlio di Caino sai chi era? Enoch quando si scontrarono i due eserciti Elil riuscì a rapire Enoch il figlio di Caino e lo portò nell'antica città di Susa dove regnava lo tenne come ostaggio per assicurarsi perché Caino era molto bravo nella metallurgia che non formasse un esercito per andarlo a sconfiggere il famoso testo di Enoch io ho usato il testo amarico scritto nell'antica lingua etiope la lingua Ghaes non si parla di giganti ma si parla di uomini altissimi e questi Gurgan erano molto più alti rispetto alle altre si sanno le misure la descrizione che dà è no però guarda considera che noi perché noi questi no diciamo abbiamo le tombe di questi Gurgan potevano arrivare fino a 1,80 tu considera una cosa che il Cam il figlio di uno dei figli di Uom andò in Egitto e da lì infatti poi molti archeologi hanno detto ma com'è possibile che questi faraoni abbiano fattezze caucasiche occhi verdi indoeuropee insomma il faraone più alto che abbiamo avuto nella storia era alto non mi ricordo sinceramente il nome adesso mi sfugge 1,87 però per quel tempo erano molto molto alti e infatti poi in Egitto arriveranno documenti da Babilonia con formule avanzate di matematica trigonometria tecniche costruttive per le abitazioni poi arrivarono a costruire zigurat piramidi eccetera eccetera metallurgia costruzione delle prime armi rami e quant'altro quindi quando parliamo del testo di Enoch Enoch racconta la descrizione che fece nel suo viaggio per andare verso le montagne dell'Elam Nafal gli scesi i caduti ma non caduti dal cielo come hanno voluto farci credere Anunaki coloro che scesero dal cielo no il termine chi vuol dire suolo terreno venivano chiamati Anunna che vuol dire ai primi governatori la progenio semenza dei principi questi sumeri schiavizzarono la popolazione locale crearono le prime città-stato bonificarono non loro ma la popolazione che avevano schiavizzato il territorio crearono canali di irrigazione eccetera eccetera ma torniamo un attimo ancora alla battaglia perché abbiamo detto che Elil riuscì ad avere le tavole dei destini che davano la regalità perché Elil a noi il padre aveva detto che doveva essere lui a diventare re giusto? e a questo punto avvenne una conspirazione che portò alla guerra tra Elil e suo nipote Adamo o Alulim cosa successe? El aveva un palazzo dove era regnava dove era governatore e il capo delle guardie del palazzo di Elil era Aya Aya aveva sposato Nisabba Aya e Nisabba erano i genitori di Ninlil che poi sposò questo Elil che diventerà il signore della Bibbia Ninlil vuol dire signora del vento Lilith prima moglie di Adamo Alulim vuol dire signora Lil signora e tu in accadico signora del vento stiamo parlando dello spesso personaggio infatti Elil era invachito di questa Ninlin la prima moglie di Adamo Ninlil o Lilith andò a fare il bagno al caneto e come lo seppe Elil infatti la madre Nisabba la rimproverò Nisabba tra l'altro era la dea della scrittura scrittura che arrivò poi fino a Set o Nabu per i sumeri e perché elaborarono le pittogrammi delle tavolette di tartaria le elaborarono nelle prime forme di scrittura le prime forme di scrittura che troviamo era il protosumerico nell'Elam dove c'era Elile e poi il sumero tant'è che Flavio Giuseppe ci dice quando ci fu questo incendio e poi a cui seguì l'alluvione dalle onde che scrissero su una colonna di mattoni e per sicurezza anche su una colonna di roccia la distruzione dell'universo vero di tutta quella terra dove erano soprattutto non potevano avere la concezione della terra come l'abbiamo noi e sapere cosa sarebbe successo in altre zone a causa di un incendio e poi a causa di una inondazione quindi questo per far dire per farvi capire poi come queste forme di scrittura proprio attraverso Nisabbo la moglie di questo Aia che era il capo delle guardie di Elil elaborarono questa scrittura che arrivò poi fino ad Adamo attraverso Lilith figlia di Nisabba la dea della scrittura e che trasmise poi a Seth figlio di Adamo infatti a Adamo e Seth che scriveranno questo sulle colonne perché ce lo racconta Tito Flavio Giuseppe dicevo Elil quando seppe che Lilith andò a fare il bagno del caneto andò lì per cercare di avere rapporti sessuali con lei tant'è che la mamma le sconsigliò di andare nel caneto a fare il bagno perché aveva paura di che Elil potesse avere rapporti sessuali con lei lì probabilmente Elil andò da Ninlil tant'è che poi ebbe figli da lei o da Lilith prima moglie di Adamo e che cosa successe entra in gioco un altro personaggio per la simbologia sumera Anzu a quel punto entrò dentro il palazzo di Elil dove c'erano le tavole dei destini che davano la legalità rubò le tavole dei destini tant'è che Anzu poi verrà demonizzato per aver fatto questo e essersi padronito delle tavole dei destini e lo stesso avverrà con Lilith vedrà demonizzata come la civetta come serpente famoso serpente perché le tavole dei destini davano la legalità non solo Luca oltre alla legalità che cosa davano la conoscenza non è in grado di predire passato presente futuro e aveva secondo loro anche la forza di poter far vincere le guerre a questo punto poi Anzu prese queste tavole dei destini Anzu Asag era uno dei generali di Adamo nella famosa battaglia del signore contro il famoso Lucifero e gli angeli ribelli la diede poi a Lilith Lilith la diede a Eva sorella di Adamo mentre Lilith non era sua sorella e Eva la diede a suo fratello Adamo il famoso peccato originale perché le tavole dei destini oltre alla legalità davano la conoscenza e noi sappiamo dalla leggenda che ci viene raccontata dalla Bibbia che fu punito Adamo per volere aver voluto la conoscenza quella conoscenza che prese il serpente Lilith fu proprio demonizzata come serpente che diede poi ad Eva e che Eva diede ad Adamo a questo punto ci fu lo scontro tra il signore e Adamo ma l'esercito di Adamo era uscito ridimensionato dalla sconfitta precedente contro Tiamat e Kingu che aveva ucciso quindi fu costretto a fuggire così come Caino fu costretto a fuggire e creò questa città sportificata a questo punto quando fuggì con il suo con i guerrieri che gli erano rimasti sappiamo che poi andò sul monte Hermon e lì raccontiamo tutta la storia poi di come fu catturato di tutto il processo ragazzi per la prima volta esce fuori chi era Lucifero questo Adamo e tutto il processo sui capi di imputazione che gli furono dati dove fu rinchiuso in carcere e come poi riuscì a liberarsi e noi abbiamo nella mitologia la famosa battaglia tra il Signore contro Lucifero e gli angeli ribelli accusato di cosa si dice nella Bibbia uno una volta che si fece dare le tavole dei destini da Lilith per avere la regalità Adamo dovete sposare sua sorella Eva perché Anu il nonno aveva dato questa regola che per avere la regalità e poterla trasmettere ai suoi discendenti bisognava sposare la propria sorella e non una concubina quindi dovete ripudiare Lilith e mettersi con Eva e nella Bibbia troverete il passaggio dove si dice quando si mise con Eva questa volta è carne della mia carne ed ossa delle mie ossa è mia sorella il mio stesso sangue il mio stesso DNA non solo poi si dice che quando videro che le figlie degli uomini erano belle si unirono con loro e nacquero i semi dei perché questi personaggi furono dei figati Adamo e i suoi guerrieri furono costretti a fuggire verso ovest verso il monte Hermon e lì che cosa fecero si accoppiarono con le donne locali la popolazione autoconona di quella zona monte Hermon poi si trova sempre lì in Israele da quelle zone e nacquero i semi dei ma il capo di imputazione che gli fu dato quale era poi il fatto di aver trasmesso a queste persone che non erano della loro stessa razza Kurgan che non avevano il loro stesso sangue delle nozioni che portavano al potere e quali erano uno la scrittura ragazzi la scrittura è stata importantissima per l'uomo per creare il potere riflettereci tutti i trasporti marittimi commerciali scrivevano tutto è stata una delle cose più importanti due le tecniche costruttive per costruire abitazioni non più in canne nei bambù ma con un'altra tecnica costruttiva molto più avanzata tant'è che abbiamo molti zigurat lì proprio nella terra di Sumer e la cosa più importante quale era lo abbiamo ritrovato nei testi delle lamentazioni signori questi personaggi furono iniziarono a costruire le prime armi in rame ora Luca se tu hai una un'ascia e mazza di pietra no? come arma e io frecce lance leggere in rame asce e mazze in rame la tua arma pesa 10 kg 15 kg non lo so più la fai grande più pesa no? in pietra sì in rame riduco a un decimo il suo peso e quindi sono molto più veloce e in grado di prevalere a livello militare su di te quindi avevano passato parte del loro potenziale con cui avevano preso il potere nella terra di Sumer ad altre persone che non appartenevano alla loro stessa etnia questi furono i capi di imputazione per cui poi Adamo fu incolpato dal Signore perché poi fu costretto a fuggire e da lì ci dicono che nacquero i semidei allora se avete domande penso di aver messo molta carne al fuoco e per esperienza so che più allunghiamo le trasmissioni più cala poi il livello di attenzione delle persone ecco perché io poi preferisco essere abbastanza sintetico non andare molto nei particolari ma sulle cose generali tutte gli approfondimenti li possono trovare nel libro Lucifero e Resumero tradito dal Signore e il libro 666 il marchio della bestia e gli angeli e la caduta degli angeli ribelli e il marchio della bestia ancora una volta ti chiedo visto che lo ripetiamo ancora una volta è avvenuto uno scoop secondo secondo me secondo tutte le persone che erano in quella chiesa è vocale anche perché dopo alla fine del mio intervento un chirichetto con un prete hanno cercato di fermare tutto quanto altrimenti sarei andato avanti spiegando anche cosa era accaduto nel processo ma attenzione Luca perché io non è mia intenzione quella di denegrare Gesù un personaggio che è stato ingiustamente crocifisso poi vedrete i veri motivi per cui fu crocifisso un personaggio che per un tradimento della madre verso il marito ma io voglio ricordare a tutti che ero del grande aveva 14 anni quando prese Maria che aveva solamente 15 anni dopo che di che ci hanno raccontato che era Giuseppe che prese Maria era ero del grande e vi portiamo tutte le prove un personaggio che aprì queste comunità dei terapeuti dove tutto ecco perché poi ritroviamo queste parole nel Gesunesimo di un Gesù nel Vagello di Tommaso completamente diverso dalla dottrina del cristianesimo e c'è questa profonda diversità dove in queste comunità tutto veniva spartito in maniera equanime tra gli abitanti del villaggio lo stesso avveniva nelle società neogilaniche che i Kurgan distrussero che era un terapeuta che usava la medicina per curare i ragazzi nel terzo libro di Oltre il Velo di Iside andremo attraverso testi copti egizi antichi a svelare come venivano praticate queste che vengono chiamate magie queste che vengono chiamate miracoli quindi soprattutto poi questo personaggio quindi oltre a cercare di contrastare il potere che c'era sacrificò la sua vita per il popolo di Gerusalemme che era stato messo era stato privato di tutto dagli zeloti erano alla fame e lui organizzò militarmente il popolo contro questi zeloti che furono detti a rintanarsi nel tempio di Gerusalemme dopodiché chiameranno gli dumei che arrivarono con un esercito di 20.000 uomini a loro difesa ti consiglio poi te lo manderò di ascoltare un video che ha fatto l'attrice Elisa Reynolds dove praticamente gli ho mandato delle pagine che è un vero discorso di un vero discorso che Gesù pronunciò nel 68 dall'alto di una torre agli idumei ed è qualcosa di particolare quindi magari poi quando parleremo di questo possiamo anche riproporlo questo bellissimo video che ha fatto Elisa Reynolds e ti fa venire la pelle d'oca io te lo manderò se lei è d'accordo ovviamente io Elisa la conosco no 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 ce l'abbiamo pubblicato noi ci ha fatto l'intervista lei no 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 tranquillo è di diffusione pubblica ah ok va bene è l'intervista che abbiamo fatto con lei sì 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 quindi non c'è assolutamente anzi sarà molto contenta ah ok va bene è un'intervista come abbiamo fatto un'intervista con te però lì abbiamo tirato fuori questa parte lei l'ha voluta l'ha voluta reggere ed è qualcosa che ti fa venire la pelle d'oca sentire dopo duemila anni le vere parole che Gesù pronunciò quindi tre pagine di un vero discorso che Gesù pronunciò davanti agli idumei letto da questa attrice ragazzi è qualcosa che vi farà venire la pelle d'oca e che vi farà vedere Gesù come uomo sotto tutt'altro aspetto anche un aspetto come politico e anche come militare che organizzò il popolo per contrastare le angherie degli zeloti che stavano affamando letteralmente il popolo di Gerusalemme e che per questo fu ucciso dai dumei e zeloti la loro fine la fine di Gesù la racconteremo poi in seguito ma qui abbiamo trovato addirittura attraverso dei libri che costano centinaia di euro con tutte le attestazioni dei nomi di quel periodo e con tutte le tombe su cui sono state fatte le autopsie una sorella di Gesù e una figlia di Gesù a questo punto Luca siamo andati oltre l'immaginabile perché su quei corpi sono state fatte le autopsie e abbiamo in mano il DNA di Gesù il sangue reale ne parleremo nelle prossime puntate e quindi è solamente per il famoso santo graal che però non è qui la barzelletta che ci è stata raccontata dal codice da Vinci le nostre ricerche sono ricerche documentatissime attraverso documenti storici reperti archeologici e un lavoro di comparazione tra vangeli apocrifi canonici tantissimi libri di storici e oltre a tutte reperti archeologici di cui abbiamo parlato quindi ci sentiamo penso la prossima settimana a distanza di una settimana per parlare di questo vi manderemo se ci arriverà anche il video con la registrazione del confronto fatto con il professore della Pontificia Università ok perfetto allora intanto ricordiamo che i libri di Alessandro De Angelis sono presenti nella nostra piattaforma nel reparto ovviamente libri ecco qua basta scorrere giù in basso e si vedono praticamente i due eccolo qua Lucifero SS6 che sono i libri di di De Angelis quindi ti basta andare dentro clicchiamo e possiamo andare direttamente nel nel distributore di questi eh bene allora Alessandro io ti ringrazio tantissimo ringrazio tantissimo anche tuo figlio che so che ti assiste minuziosamente veramente un alleato un sostenitore straordinario per te e sono felice per questo grazie per queste perle che tutte le volte ci dai noi continueremo ad andare avanti con queste interviste e guarderemo la storia cristica da un altro punto di vista grazie ai tuoi studi alle tue ricerche a tutto quello che comunque è il tuo contributo storico è di questo ultimo periodo grazie davvero Alessandro e arrivederci a presto a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.